Oh, perché è più appiccicoso, ragazzi? No, perché? Ragazzi, no, è troppo! Pirota esce, immagino che stavi soffocando qua dentro. Ragazzi, mi è arrivata questa scatola, questo grandissimo tubo. È un esagono a tre strati. Guardate. Uno, due e tre. C'è scritto Ready to Robot. Non capisco se tu, cioè due, vuol dire proprio due, oppure vuol dire tu, nel senso in inglese. Tu, pronti per il robot. Costruisci, swap, non so che vuol dire, e battle, battaglia. Beh, che dire, cominciamo subito da perdere. Allora, ok, qui abbiamo, qui, secondo me due, perché? Ah, e poi ci sono pure questi due. C'è dello slime, le armi, le gambe, il piota, altre, le braccia. E la faccio. Vediamo un po' come si apre. E poi qui sotto, che cosa abbiamo? Una... Cosa sarà? Una rena. Una rena da... Vediamo come si aprono. Aspettate. Immaginavo. Qui c'è un taglio. Ecco. Dove c'è scritto Peel here. Ok, sembra molto a stile LOL. Scusate tanto per il mio raffreddore, è che oggi sono andato a scuola perché avevo una fortissima, un fortissimo mal di gola. Qui abbiamo l'altra parte. Peel here. Peel here. Sì. Ok. Ah, qui abbiamo... Ok. Ok. Qui abbiamo... Ok, non sono due, quindi era per dire tipo tu. Ecco, sono tanti. Sono tanti. Sono tanti robot con i loro piloti. E vediamo un pochetto per aprirlo. Open air. Ok. Ok, è veramente molto a stile LOL. Infatti è dei giochi preziosi. Sì. Qui? Si fa altro. Ok, sì. Pushier. Non lo voglio fare adesso. Questo salta via. Immagino, eh. Allora, vediamo. Qua secondo me ci sono i piloti? O le armi? Queste sono le gambe. Sì, no. Qui come vedete ci sono le due ruote. Apriamo qua. Ok. Forse si inseriscono le armi. Immagino. Arma. Ok. Questo volo lo so io. È completamente ipervolato. E qui che cosa abbiamo? Le braccia. E qui? L'altro braccio. E poi ci rimane questo. Che è un'altra arma. Ragazzi, qua dentro c'è dello slime. Qui si deve schiacciare. Ci dovrebbe essere dello slime, però. è volato ragazzi. È volato. E' volato. Eccolo. Questo è super schifo. Qua c'è il pilota. Ok. Ehm. 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 Ci sarà anche un altro. Un'altra. Un altro pacchetto di ready to robot. Ok. Ok. Va benissimo. Questo va rimesso nella sua... Nel suo contenitore di acido. Vai. Vai dentro. Vai dentro. Mi raccomando. Mi raccomando. Ok. Qui c'è il bellissimo personaggio. Dottor Cervellus. Qui. Le gambe. Ok. Poi. Le braccia. Le braccia sono queste, scusate. Le braccia. Ok. Dopo le braccia. Queste. Non sono sicuro che sono armi. Perché queste vanno qui. Saranno ali. Ok. Ecco fatto. Ed ecco il nostro primo ready to robot. Cominciamo a scartare il secondo, ragazzi. Ecco qua. Scartiamo. Scartiamo. È divertente. Scartare. Scartiamo. 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 Ecco qui. E abbiamo tolto il secondo strato. Ragazzi, guardate. Questo è di un altro colore. Vediamo. Ok. Abbiamo questo. Bello. Bello. Abbiamo forse un'arma. È volato. Ok. Qui stavolta ne abbiamo tre. Questa fa male, secondo me. Un piede. E sembra un altro piede. Sì. Apriamo questo. Ah, guardate. Praticamente dice che il pilota è qua dentro. E se siamo pronti alla battaglia. E bisogna pushare ancora di più. Uh, bello questo. Cos'è? Un braccio. Questa è l'arma. Questa è l'arma assolutamente. Questa è l'arma assolutamente. Dicevo che si era perso. E qui? 3, 2, 1. Esplodi. È volato via. È volato via. Ragazzi. Ok. Apriamo. Che bello. Questo è più. Questo è più. È più slime. È più schifidolloso. Nel senso che è molto, molto più appiccicoso. Perché è più appiccicoso? Ragazzi. No. Perché? Ragazzi. No. È troppo. Pirata esci. Immagino che stavi soffocando qua dentro. Questo. Sembra il petrolio. Sembra. Tipo. Una di quelle sostanze. Come dire. Che usano tipo per fare gli esperimenti. Gli esperimenti. Cioè. È tipo una sostanza aliena. Infatti i robot. I robot. Molto. Evoluti. Ragazzi. Come faccio? Ragazzi. Ragazzi. Vi dico l'indirizzo. Per favore. Venitevi ad aiutare. Vi scongiuro. Mi dovete venire ad aiutare. qua a casa mia. Perché. La situazione. La situazione. Sta a degenerare. No. No. Ne aggiungo di più. Ragazzi. Ragazzi. No. Veramente. Non sto scherzando. Io come faccio? Cioè. Eh. Ok. Che bello. Divertente. Però è molto appiccicoso. A me fanno abbastanza senso. Queste cose. Ok. Però. Credo che ora mi andrò a lavare le mani. E addio a questo slime. Sei una rana. Guarda. Guardate. Eccomi. E ci sono rimasti residui di slime. Ok. Allora. Qua. Altri residui. Ok. Mescoliamo bene i residui. E uno. Lo chiamo Bart. Mettiamo uno. Come siamo belli tutti e due. Questa. Se non sapete. Per i nuovi del canale. Se non sapete questa che cos'è. E la spaccata. Ha quattro zampe. Perché non ci sono le altre due. Perché ci sono. No vabbè. La spaccata ha sei zampe. E la spaccata ha 12 toppe. My robots are ready for the battle. And. Noi ci vediamo al prossimo video. Niente ragazzi. Volevo dire. The my robots are ready for the battle. Significa. I miei robot sono pronti per la battaglia. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ragazzi. Spero tanto che questo video vi sia riuscito a mettere un mi piace. Se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale. E ciao ciao. Noi. Noi. I robot. And my robots. Bye bye.